salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone oggi andremo a vedere come condividere lo schermo del nostro computer direttamente con qualsiasi tv la tv e il computer deve essere collegate lo stesso wifi quindi premiamo il tasto destro del nostro mouse ci vengono le impostazioni impostazioni di schermo poi quando vediamo questa schermata qui dove c'è scritto connetti a schermo wireless premo ok e adesso mi appariranno tutte le tv che sia che posso collegarli in questo caso vado a scegliere una samsung 43 pollici anche perché queste sono tv che non hanno android e quindi non hanno la chromecast però possiamo connettere tranquillamente vedete adesso premo samsung nella mia tv apparirà come vedete nel riquadro in basso a destra vedete adesso appare connessione ad hp quindi lui si sta già connettendo e vedrete che adesso lo schermo si sposta dall'altra parte nella tv che vediamo veramente una cosa velocissima da fare giustamente basta sapere dove cliccare gli schermi giusti ed eccoci qua è arrivato lo schermo questo vale per tutte le tv anche le tv che non sono android quindi anche samsung lg tele system tutte quelle che non hanno android possiamo vedere anche google tutto quello che volete bene signori se il video è stato utile mettete un bel like iscrivetevi al canale e attivate tasse notifiche tutto gratuito grazie a tutti e arrivederci